Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 2 novembre, estorsioni a tappeto, a bagheria, arrestati storici boss di Cosa Nostra, a ribellarsi al pizzo, 36 imprenditori. 36 imprenditori di bagheria hanno deciso di dire no al pizzo, una ribellione che segna una svolta nella lotta a Cosa Nostra. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione oggi a 22 provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti capi e gregari del mandamento mafioso di bagheria, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, sequestro di persona ad addeggiamento a seguito di incendio. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno evidenziato la soffocante pressione estorsiva esercitata da temutissimi capi mafia che dal 2003 al 2013 si sono succeduti ai vertici del sodalizio mafioso. Una cinquantina le estorsioni documentate grazie alla dettagliata ricostruzione fornita dagli imprenditori che hanno trovato il coraggio, dopo decenni di silenzio, di ribellarsi al gioco del pizzo. Tra queste la drammatica vicenda di un imprenditore edile che racconta di aver iniziato a mettersi a posto già negli anni 90 e di non essere più riuscito a non pagare, vedendosi addirittura costretto per 10 anni a versare 3 milioni di lira al mese alla famiglia del reggente del mandamento, mentre era in carcere, oltre a dover pagare significative percentuali dell'importo degli appalti aggiudicati. Da lì l'inizio di un'odissea che ha ridotto sull'astrico la vittima, costringendola a cessare l'attività e a vendere anche la propria abitazione per far fronte alle perduranti e richieste estorsive. Quella di oggi è il seguito di un'altra operazione messa a segno contro le cosche della cittadina alle porte del capoluogo per anni feude e rifugio in latitanza del padrino di Corleone, Bernardo Provenzano. L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mariella Lobello afferma di voler realizzare un piano per il tempo pieno scolastico. Il primo passo sarà quello di progettare un disegno di legge ad hoc. La Sicilia deve sanare il gap con le altre regioni anche nel tempo pieno scolastico e c'è la mia ferma volontà di elaborare un apposito disegno di legge. Lo afferma l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mariella Lobello che specifica che alle riunioni che dovranno tenersi anche negli uffici provinciali di riferimento prenderanno parte gli istituti scolastici e le associazioni maggiormente rappresentative delle famiglie e degli alunni. Vogliamo in questo modo, continua la Lobello, acquisire elementi al fine di raccogliere e selezionare le attività e le iniziative formative ed educative che possano essere impartite nelle scuole siciliane in orari pomeridiani rispetto a quelli ordinari mattutini. Lo scopo prosegue è quello di addivenire alla stesura di un apposito documento programmatico contenente le idee e i progetti utili a supporto della formulazione di appositi disegni di legge, provvedimenti o atti di indirizzo per la concreta implementazione del tempo pieno delle scuole. Ho anche indirizzato un'apposita nota, conclude, al Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale affinché come autorità di gestione presti il proprio supporto programmatico e amministrativo gestionale. Con la chiusura dell'Expo di Milano si è conclusa con successo la trasferta del gruppo statuario dell'Ultima Cena della Settimana Santa di Caltanissetta in mostra al cluster Biomediterraneo. Caltanissetta qui rappresenta la tradizione più importante delle celebrazioni della Settimana Santa in Sicilia. Qui è rappresentata appunto uno dei sedici gruppi statuari che sfila il Giovedì Santo e che proprio rappresentano la passione di Cristo e questo avviene in un'atmosfera di grande devozione popolare dove si mixano insieme la tradizione ma anche il cibo ed è proprio per questo che siamo qui anche per rappresentare quest'opera d'arte che appartiene a uno dei ceti storici della città di Caltanissetta che è quello dei panificatori. Assieme a questo abbiamo cercato di promuovere tutto il territorio e abbiamo chiesto di partecipare a un concorso soprattutto utilizzando il linguaggio dei giovani attraverso i selfie. Questo Pio Mediterraneo è stato il luogo dove abbiamo messo in evidenza tutte le identità di Sicilia le abbiamo integrate nel Mediterraneo e si è fatta l'innovazione geopolitica erano un po' questi tre grandi obiettivi del cluster condivisi con l'Espò. L'arrivo della vara dell'ultima cena da Caltanissetta conferma anche questa esposizione delle tradizioni religiose Sicilia è una terra dove le tradizioni religiose, soprattutto quelle della settimana santa, sono molto forti e quindi in un'esposizione versale che dal primo maggio abbiamo aperto con Pantelleria e alla fine la chiuderemo con l'ultima cena della vara rappresenta quel viaggio attraverso il territorio di Sicilia con cui abbiamo valorizzato tutta la nostra terra. Martedì 3 novembre, inchiesta sui beni confiscati alla mafia la commissione disciplinare del CSM si è pronunciata, saguto, sospesa dalle funzioni e dallo stipendio. La commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura si è pronunciata, sospesa dalle funzioni e dallo stipendio Silvana Saguto, l'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo indagata per corruzione a Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sui beni confiscati alla mafia. E' stata accolta in questo modo la richiesta del ministro della Giustizia e del procuratore generale della Cassazione. Nei giorni scorsi la Saguto, assistita dal suo avvocato Giulia Bongiorno, è stata sentita per oltre tre ore davanti alla sezione disciplinare del CSM a porte chiuse. A nulla in questa fase è servita la difesa del magistrato. Non ha mai intascato un euro e gli accertamenti bancari lo provano, aveva detto il suo legale. Secondo il ministro Orlando, invece, la Saguto ha fatto un uso distorto delle sue funzioni per interessi privati, peraltro in un contesto che inevitabilmente investe per la sede in cui i fatti sono maturati la credibilità stessa della risposta delle istituzioni al fenomeno mafioso. Sono sei illeciti disciplinari che il ministro della Giustizia contesta al giudice, a cominciare dalla violazione dei doveri di imparzialità e correttezza. Ci sono poi anche altre accuse, l'aver divulgato notizie riservate e aver sottoscritto decreti di liquidazione di onorari agli amministratori giudiziari privi di motivazione. Intanto stamattina sono iniziate le audizioni davanti alla prima commissione che si occupa dei trasferimenti e delle incompatibilità ambientali dei magistrati. Oltre alla stessa Saguto vengono ascoltati gli altri quattro magistrati indagati, Dario Scaletta, Tommaso Virga, Fabio Licata e Lorenzo Chiaramonte. Ennesima falla nella condotta di fiume freddo. Torna l'incubo a Messina di nuovo senza acqua. A Messina torna l'incubo acqua. Una nuova falla si è verificata nella condotta di fiume freddo con la conseguente interruzione idrica. A dele l'annuncio il sindaco di Calatabbiano. Si tratterebbe di una nuova frana incontrata a Piano Piraino dovuta al maltempo. I tecnici di Amam, la società che si occupa dell'erogazione idrica nel capoluogo peloritano, sarebbero già sul posto per verificare l'entità del danno. Ma ovviamente non si conoscono ancora i tempi di ripristino. Si rischia quindi di ritornare allo stato d'emergenza idrica dei giorni scorsi, quando tutta l'Italia si indignò di fronte ad una situazione drammatica. Ciò che è certo è che bisogna iniziare immediatamente i lavori per allestire una nuova condotta. Perché a questo punto appare chiaro, come al primo acquazzone, frane e smottamenti metteranno nuovamente fuori servizio l'acquedotto in un circolo vizioso senza fine. La tubazione nei giorni scorsi, dopo che la città era rimasta a secco per oltre una settimana, era stata riparata. Il direttore dell'Amam, Luigi Larrosa, ha assicurato ci stiamo recando sul posto per vedere l'entità del danno. Comunque valuteremo di attivare anche il bypass. Anche a Palermo si celebra la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, cerimonie militari e visite gratuite. Le Forze Armate, di concerto con l'Ufficio Territoriale del Governo e la Guardia di Finanza, domani celebrano il giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. A Palermo ci saranno iniziative aperte alla cittadinanza per tutto il giorno. Si parte alle ore 9.30 da Piazza Vittorio Veneto con la cerimonia di alza bandiera e deposizione di corona di alloro al Monumento dei Caduti da parte del Prefetto, del Generale D'Alzini, Comandante Militare della Sicilia e delle principali autorità militari e civili cittadine. Sarà presente anche il gonfalone della città di Palermo, decorato di medaglia d'oro al Valor Militare. Un reparto interforze con fanfara della Legione Carabinieri Sicilia renderà i onori militari. A seguire il Generale D'Alzini, accompagnato dalle massime autorità presenti, donerà un drappo tricolore agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Sferra Cavallo, intitolato alla medaglia d'oro alla memoria Tenente Carmelo Onorato, caduto a Cefalonia il 24 settembre del 1943. Alle ore 18 sarà la volta invece della cerimonia di ammaina bandiera. Inoltre dalle 9.30 alle 15.30 è ingresso libero per visitare la Caserma Turba nell'omonima piazza e la Caserma Generale Carlo Alberto Dallachiesa, in corso Vittorio Emanuele. Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni operative, vedere in mostra e in azione alcuni mezzi in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia. Infine a Piazza Verdi, alle ore 18.30, sulle scalinate del Teatro Massimo, fanfare militari si alterneranno in concerto. Mercoledì 4 novembre, trattativa Stato-Mafia, assolto a Palermo per non avere commesso il fatto, l'ex ministro democristiano Calogero Mannino. Assolto per non avere commesso il fatto, il gruppo Marina Petruzzella ha scagionato Calogero Mannino dall'accusa di aver avviato all'inizio del 1992 la trattativa fra pezzi e lo Stato e vertici di Cosa Nostra. Era questa la contestazione che la procura di Palermo ha mosso all'ex ministro Diciso, lecitando la sua condanna a nove anni. Mannino era imputato per il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, previsto all'articolo 338 del codice penale. La decisione è arrivata dopo un'ora di Camera di Consiglio e due anni e mezzo di processo. E' il primo verdetto per l'inchiesta Stato-Mafia. Mannino aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. In corte di Assise sono ancora imputati gli ex ufficiali del Rosso, Mario Mori, Antonio Subbranni, Giuseppe De Donne e Mauro Obinu, l'ex ministro dell'interno Nicola Mancina, accusato di falsa testimonianza, l'ex parlamentare di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, ma anche i boss Salvatore Riina, Leuluca Bagarelli e Antonino Cinà. Fra gli imputati è anche il pentito Giovanni Brusca. La motivazione della sentenza sarà depositata fra 90 giorni. Mannino stamattina era presente in aula al momento del verdetto. Io molto sereno perché ho atteso questa sentenza con l'animo limpido che derivava dalla mia coscienza, dalla consapevolezza di non avere minimamente fatto nessuna delle cose imbastite dall'accusa con molta fantasia. L'accusa si è mossa sul terreno dell'immaginazione, dell'improvvisazione, del partito preso. e sin dal primo momento, quando ho scelto il rito abbreviato, ho avuto la convinzione che la mia innocenza sarebbe stata riconosciuta. Io ho sempre avuto per partito preso, per principio, fiducia nella giustizia. È una frase che è diventata di rito. Fiducia nella giustizia non significa fiducia in tutti i pubblici ministeri, significa fiducia nei giudicanti. Io sino ad oggi sono andato davanti, più volte, davanti a un giudicante che mi ha sempre assolto e quindi non posso che riconoscere che vi è un giudice a Berlino. Di Matteo è abituato all'errore, ha gestito dei processi a Caltanissetta contro degli innocenti, tra l'altro dei processi che hanno depistato rispetto alla ricerca della verità sulla strage di Borsellino e quindi con l'ostinazione che gli è propria annuncia il suo intendimento. E ancora emergenza idrica a Messina, dove alcuni rioni potrebbero restare senza acqua. L'azienda meridionale Acque di Messina, dopo la nuova rottura della condotta a causa di una frana a Calatabiano, ha attivato il bypass tra la condotta di Fiume Freddo e quella di Alcantara, aumentando la portata fino a 500 litri al secondo. L'operazione consente di soddisfare quasi la metà del fabbisogno giornaliero della città. Continuano però ad esserci problemi di approvvigionamento nelle parti alte della città e per questo è stato potenziato il numero delle autobotti e si provvederà ad un ulteriore incremento delle risorse idriche tramite una nave cisterna della capacità di 5.000 tonnellate con immissione diretta nella rete cittadina ogni due giorni. L'organizzazione della distribuzione idrica è curata da una cabina di regia facente capo al dirigente dell'Ispettorato Dipartimento Foreste. In particolare, le parti alte della città, difficili da servire con erogazione diretta per ragioni di natura orografica, verranno servite tramite autobotti. Tra le priorità per i riferimenti di acqua all'ospedale Papardo per il quale è stata prevista per quanto possibile un'erogazione mirata a seguire presidi ospedalieri minori, case di cura, ammense dei poveri, scuole di ogni ordine e grado e fasce deboli attraverso attività di volontariato. Sanità al via in Sicilia, il piano di vaccinazioni anti-influenzali. La campagna durerà fino al 31 gennaio. Al via la campagna vaccinale anti-influenzale in Sicilia. Ieri il tavolo tecnico sulle vaccinazioni, istituito dall'Assessorato regionale salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha completato l'iter e dato il via ai vaccini. Una profilassi necessaria è importante se si considera che sono stati ben 78 i decessi in Sicilia dovuti lo scorso anno all'influenza. Un numero però riferito solo alle persone decedute nelle quali è stato isolato il virus anti-influenzale. Ma si stima che i morti per le complicanze influenzali siano molti di più, considerato che non pochi di questi decessi vengono classificati come collasso cardiocircolatorio. In Sicilia lo scorso anno la profilassi vaccinale anti-influenzale è scesa negli anziani i più a rischio di quasi 100.000 soggetti. In altre parole ha aderito alla proposta vaccinale attiva e gratuita a meno della metà dei 65 anni in su e dei soggetti a rischio. Risultato? Molti eventi in fausti ed un picco di ospedalizzazioni non indifferente. Quest'anno l'Assessorato alla Salute ha messo in campo un piano di grande rilevanza e rigorosità per la campagna 2015-2016 che durerà fino al 31 gennaio. Il vaccino verrà dispensato gratuitamente agli eventi diritto nei centri vaccinali uniformemente distribuiti sul territorio regionale o presso gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia. Giovedì 5 novembre, intesa raggiunta sul Crocetta Quater, nominata la nuova giunta di governo. Il dado è tratto ed era ora. L'annuncio è arrivato ieri a tarda ora dopo le lunghe trattative rimaste segrete fino all'ultimo. Così è nato il nuovo governo della regione siciliana determinante il passo indietro di Antonio Fiumefreddo al quale è stato chiesto di rinunciare all'incarico come già avvenuto in occasione del Crocetta Terre più di un anno fa. Poi Crocetta ha cancellato dalla lista anche Cleoli Calzi mettendo al suo posto l'uomo di lupo Antony Barbagallo. E' dunque risolto anche il problema territoriale con il sì della componente renziana ex articolo 4, la giunta è finalmente nata. Ma andiamo agli assessori nominati. Mariella Lobello, assessore alle attività produttive. Antonello Cracolici, assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Giovanni Pistori alle infrastrutture e mobilità. Maurizio Croce al territorio ambiente. Antony Barbagallo, assessore al turismo, sport e spettacolo. Baldo Gucciardi, assessore alla salute. Gianluca Miccichè, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Alessandro Bacciai, resta assessore all'economia. Carlo Vermiglio ai beni culturali e l'identità siciliana. Vania contraffatto all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Bruno Marziano all'istruzione e formazione professionale. Infine il presidente tiene l'interim delle autonomie locali. L'assessorato potrebbe andare a uno dei partiti rimasti fuori. Per l'ufficialità bisognerà aspettare lunedì quando il presidente Crocetta incontrerà di nuovo il sottosegretario De Vincenti per discutere l'accordo con Roma che servirà a portare in Sicilia il miliardo e 400 milioni che fino a un paio di giorni fa sembravano certi. Senza questi soldi il governo si spegnerebbe in automatico. Ringrazio i partiti e il segretario Raciti, ha commentato Crocetta, per il grande lavoro svolto per assicurare alla Sicilia un governo politico. Amat, i sindacati proclamano lo stato d'agitazione. All'azienda Faorecchera Mercante i lavoratori esigono risposte. Cobas, UGL e Faisa Cisa l'hanno proclamato oggi lo stato di agitazione dei dipendenti dell'Amat. La decisione dei sindacati, comunicata dagli altri alla Commissione di Garanzia sugli scioperi, è stata presa dopo l'ennesima richiesta di incontro con l'azienda andata a vuoto. Nei giorni scorsi i rappresentanti dei lavoratori hanno inviato una lettera all'Amat per sollecitare un confronto su temi quali il contratto di servizio, il piano industriale, i nuovi turni di lavoro, il parco mezzi, l'avvio del tram e l'organizzazione del servizio di segnaletica stradale. Senza avere però alcun riscontro ufficiale. I sindacati sono perplessi anche per quanto riguarda il tram, in particolare l'impatto economico sui conti dell'Amat. C'è l'assoluta mancanza di chiarezza sul futuro sistema dei trasporti, afferma Corrado Di Maria, segretario provinciale UGL Autoferro Tramvieri. Legare il tram agli introiti della ZTL è un azzardo. Inoltre, se è vero come è vero che non esiste ancora un contratto di servizio integrato, ferro, gomme e nemmeno risorse aggiuntive da parte della Regione, il rischio è che il tram diventi una palla al piede per l'azienda. Intanto l'Amat già sopporta il costo del direttore d'esercizio e quelli degli oltre 50 autisti ad esso destinati. Aggredita e minacciata una suora missionaria a Palermo. Si tratta di suora Anna Alonso, fondatrice del centro arcobaleno delle quartiere Guadagna. Non è la prima volta purtroppo che a Palermo chi si prende cura dei più deboli diventi vittima di pestaggi e minacce. Stavolta è toccata a suora Anna Alonso, religiosa missionaria, che nella notte di sabato scorso è stata aggredita davanti alla propria abitazione in via Oreto. È stata picchiata, insultata e minacciata con un coltello da un branco di ragazzi dal chiaro accento palermitano, che l'hanno braccata mentre stava scendendo dalla sua auto per fare il rientro a casa. Solo da poche ore però si è appreso dell'aggressione che sta suscitando indignazione in tutta la città. Suora Anna la conoscono tutti, da sempre porta avanti i progetti per i bisognosi e si prende cura di tanti adulti e bambini. Il centro arcobaleno, da lei creato nel quartiere Guadagna, è stato più volte oggetto di danneggiamenti che hanno anche visto lo sfregio della stessa icona del beato padre Pino Puglisi a cui il centro si ispira. Inoltre più volte sono stati rubati o distrutti materiali destinati all'animazione per i bambini, alle attività delle donne e persino gli alimenti destinati agli indigenti e agli immigrati che Anna assiste di notte con un gruppo di volontari. Evidentemente il mio lavoro in un quartiere difficile come la Guadagna rompe diversi equilibri, ha commentato lei stessa. Del mio lavoro svolto qui alla città non importa, hanno rubato tutto quello che potevano rubare, anche tutto il cibo del banco alimentare. Sull'aggressione indagano i carabinieri. Venerdì 6 novembre, ancora emergenza idrica a Messina, si è rotto anche il bypass dell'acquedotto. Si è rotto il bypass che collegava l'acquedotto e l'alcantara all'altezza di Forza d'Agro con quello di Fiume Freddo che in questi giorni d'emergenza riforniva con 300 litri al secondo la città di Messina. A comunicarlo il capo del genio civile, Leonardo Santoro, che si è recato sul posto per verificare il guasto. La società siciliacque che gestisce l'acquedotto e l'alcantara sta cercando di trovare una soluzione al problema. Sembra che la saldatura non abbia arretto. L'unico acquedotto che rifornisce in questo momento Messina con una portata di 200 litri al secondo è quello della Santissima, ma il fabbisogno della città è di 970 litri al secondo. Dopo la frana a Calatabbiano che è sempre più estesa, quest'acquedotto non rifornisce più Messina. Nei giorni scorsi era stato creato un bypass con l'alcantara, ma oggi ha appunto acceduto. Continua dunque l'emergenza. Molti quartieri sono senz'acqua e non sarebbero ancora sufficienti le autobotti e l'esercito. Intanto il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza per Messina, l'atto del Governo segue a quello dell'Aggiunta regionale, che ieri ha deliberato la dichiarazione di stato di calamità naturale per la crisi idrica e la conseguente richiesta al Governo nazionale del riconoscimento dello stato di emergenza. Cantieri in città, tavolo tecnico in Confcommercio per affrontare l'emergenza con istituzioni e commercianti. La definizione di un cronoprogramma certo affinché gli imprenditori delle zone interessate dai cantieri in città sappiano esattamente cosa li aspetta per i prossimi mesi e si possano adottare tutte le iniziative utili ad attutire le conseguenze negative. E' uno dei punti chiave emersi nel corso di riunioni presso Confcommercio Palermo che l'Associazione dei Commercianti ha fortemente voluto per affrontare il tema caldo dei cantieri insieme agli attori principali, commercianti ed istituzioni, dal Vice Sindaco Emilia Arcuri al Project Manager di Italfair, al responsabile del progetto nodo di Palermo di RFI, al direttore dei lavori Italfair. Da lunedì prossimo gli incontri prenderanno la forma di un tavolo tecnico indispensabile per affrontare con urgenza una criticità che sta mettendo in seria difficoltà il commercio palermitano e non solo. Le imprese chiedono certezza, afferma Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per poter prendere le misure al problema. E' proprio in vista dell'incontro di lunedì chiede a tutti gli interessati di farci pervenire all'email lavori pubblici chiocciola confcommercio.pa.it suggerimenti e proposte per cercare di smorzare gli effetti negativi dei cantieri. Noi ci siamo fatti carico del problema che abbiamo il dovere di fronteggiare. Crediamo che il dialogo e la collaborazione possano dare delle risposte. Il video Drinkers, realizzato dagli studenti dell'ITES Sturzo di Bagheria, sta facendo incetta di premi in tutta Italia. Noi crediamo tantissimo nella formazione a tutto tondo, per cui il progetto non rappresenta una cosa fino a se stessa, ma rappresenta un intervento volto alla formazione completa e integrale della persona. Abbiamo scelto lo scorso anno di muoverci su linguaggi alternativi, i linguaggi musicali, i linguaggi cinematografici, i linguaggi che veicolassero la comunicazione attraverso tutti i canali possibili. E all'interno di questa idea generale che ha coinvolto ambiti vari della scuola è nato questo progetto. Perché in realtà si tratta di un progetto legato a un po' un teso allo sviluppo delle competenze comunicative in lingua italiana. Però con il professore, con l'esperto che l'ha condotto, che da quest'anno è il nostro docente, abbiamo ritenuto opportuno che un linguaggio di comunicazione che consentisse ai ragazzi di esprimersi, sia a livello di scrittura, diciamo del copione, perché l'hanno proprio inventato, sia a livello di scene, sia a livello di rappresentazione, sia a livello di idee, e potesse essere una scelta vincente. In realtà, perché dico, i progetti di italiano non sono... Quindi di scegliere il linguaggio cinematografico... Abbiamo pensato a un linguaggio in generale alternativo. Quello che a loro potesse risultare più congeniale, perché comunque sono state fatte anche attività legate ai linguaggi musicali, al linguaggio iconico, a varie modalità di espressione. Ed è nato Drinkers. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo scommesso, l'abbiamo inviato, in vari concorsi in realtà. ed è sempre il risultato vincitorio, o semi-vincitorio, attendiamo ancora esiti, che potrebbero essere... Ecco, quindi un progetto che sta risultando vincente, continuerà a esserlo. Avete vinto un premio a Montecatini, molto prestigioso, quindi che inorgoglisce la scuola. Assolutamente sì, è il Montecatini International Short Film Festival, è una manifestazione di rilevanza davvero notevole, non solo nazionale, ma anche internazionale, per cui noi siamo entusiasti, assolutamente entusiasti, e questa cosa sicuramente traspare. È tutto, grazie per l'attenzione, ancora buona domenica. Grazie.